L'enoturismo delle Marche torna a far parlare di sé dopo il successo dello scorso anno, passando dalla vigna alla tavola. Per questo itinerario di vino nato in collaborazione tra Confcommercio Marche Nord e Regione, sono 16 i ristoranti che hanno sposato questa iniziativa enogastronomica. Dal 23 marzo al 9 giugno 2023, 16 sono gli appuntamenti previsti, dove al vino e alla novità della birra artigianale ci sarà un curato accostamento con piatti tipici del menù proposto da ogni singolo ristorante. Un'iniziativa importante dal nostro punto di vista perché lega in maniera ferrea il mondo dell'agricoltura e il mondo della ristorazione. La ristorazione è da sempre, secondo noi, il veicolo preferenziale per veicolare le produzioni tipiche della nostra regione. E questa manifestazione dalla vigna alla tavola, che per noi diventa itinerario di vino, che è il brand che noi utilizziamo come associazione di ristoratori della nostra provincia, lo sta a dimostrare. 15 cene e un pranzo per presentare, offrire menu straordinari a base di prodotti del territorio, prodotti certificati, quindi prodotti slow food, prodotti biologici, prodotti DOP. Un'offerta degustativa che partirà dal ristorante La Lanterna di Fano, per poi proseguire con il piccolo mondo di Monbaroccio e Nenè di Urbino. Ad aprile sarà il turno della ginestra di Acqualagna, la taverna del pescatore, polo pasta e pizze e lo scudiero. A maggio apriranno all'iniziativa il Rossini Bistrò, Gibas, Silvana, Civico 14 più 5, Farina, Maria, Papis Bar e Osseria Fontes. A giugno chiuderà il tour enoturistico alla Palomba di Mondavio. Questa è una bellissima occasione in cui si mette in campo la possibilità di offrire il meglio del meglio della produzione vinicola sia della nostra provincia che della regione. Riuscire a fare un qualche cosa di unico che molte volte, per alcuni potrebbe essere difficile, riuscire a fare determinati menu e bere determinati vini ad una cifra abbastanza contenuta perché questo ognuno poi farà il suo prezzo, deciderà la sua serata e quello che è, però sicuramente non sarà a prezzo pieno perché una parte di questi costi sarà coperto dalla regione Marche che continuano a credere già per il secondo anno in questa iniziativa anche perché da quello che si è capito poi le cantine hanno avuto un bel ritorno e anche la ristorazione ha avuto un bel ritorno da questo come immagine.